ciao ragazzi ben ritrovati l'altra volta ci hanno fatto loro il culo stavolta li faremo noi il culo lo butteremo in culo con la sabbia e il primo è andato mancano altri mille credo si sono ottimista mi dà poco e due sono andati però se non sbaglio sono anche mi sono solo lì ma gli animali erano un po vicino non mi ricordavo io dico finiamone uno e adesso sto qua me le dà ma me le dà teniamolo distante oh guarda che cazzotto guarda che grava oh scusa non set finiti ok manca solo quello ossia il più grande bastardo di tutti no ti prego ma dai ma non può finire ogni volta così a vedevo dopo tutto oh cazzo dove è uscito questo da dove sono usciti tutti che bocca e basta così cat e no dai sono vivo eh sì magari o porca puttana no 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 io mi rendo mi rendo mi rendo mi rendo dei soldi della mia merenda uno dietro ma quello non era incazzato quello è lì cazzo e io non sapevo fosse morto ma quelli da dove sono andati dove vanno sti qua ma non è normale che si imparino così sì sì ok mi fa piacere così non mi attaccano ne si sono imparati un cavolo avete due brutte per no due buone persone che visto che non mi attaccano solo due cos'è qua nel momento di furtività ma anche no vedi ok a vabbè annere tutti di astora qua e perché non mi dici perché non parla timido bosco di croce fissimi i nomi sono sempre allegri cattedrale ha capito se intendi brutti signori ne ho trovati tanti qua ok gentile si gentile si mi ha dato un medaglione da che dicesi niente buongiorno buongiorno è la processione e grazie per essere stato così gentile e con un pezzo di tronco vuoi uccidermi ma che oddio farà male se ti arrivi in testa io non voglio guai va bene è una discussione tra me e croce fissieri fuori dalle palle cane ok ok ragazzi da dove è uscito quello a nemico 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 è un crucifisso che si era vivato un altro è in modo il cavaliere caduto cavaliere caduto 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 è solo erabi è solo è arrabbiato ok non è più arrabbiato è solo tua madre era una puttana bastone da erettico io non ho intelligenza ho dieci di intelligenza cosa ci dieci non non dieci di voto dieci di diabilità non posso lanciare neanche una bestemmia quando poca intelligenza il tipo qua tipo dove cazzo sono finito hai venuto a cercarmi grazie apprezzo che ti sei preoccupato di me avrei fatto lo stesso per voi avversario mortale stai attento magia che cosa mi dice l'istinto c'è uno spa grande spazio vuoto cosa può esserci un spazio vuoto il boss perché sei andato avanti testa di cazzo sono io che sto parlando la mia coscienza ah ecco poi che schia massaggio di cristallo e dove è andato non è che fiaschiette no solo ballante fiaschiette e basta divento il capo del mondo che ha fatto qua è meno di me è quasi a metà vita senza che abbia fatto niente poi bastano due schivate per schivare i colpi ma lui ti attacca co io pensavo fosse una merda non posso ritorcergli contro i suoi incantesimi fate che sarebbe facile o ancora che mi segue questa palla eh sì mi ero detto senza fiaschiette lo basso sì sì ma perché ci casco ogni volta via no 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 sto qua no sto qua no sto qua no tutti ma non questo ce ne sono tanti da ammazzare ma non lui spero non sia per asseverante eh spero asseverante assisto qua è anche arrabbiato forse perché l'ho colpito a morte si può mai fidare di vermi come questi ma mi attaccate o mi guardate attaccarvi vabbè sembro papà francesco ma vabbè i baffi dallo strego ma davvero non vedo che quel cappello in testa che appaio evangelista ma vabbè evangelista finché vuoi ma va bene non finché non ho recuperato le mie anime e basta con questi cristalli neanche fossi Walter White cazzo è già metà in mezzo perché non posso parlare normalmente come fa la gente non non dislessica no non sono dislessico ma lo sto diventando a forza di sto gioco ma ma lui usa la 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 palla di come si chiama la la come si cazzo si quella del cristallo è perché un come si chiama il figlio di traia di cristallo ah no il saggio il saggio sbagliato si vabbè in pratica sono la stessa la stessa cosa solo che guarda che mi dici come sono morto vabbè ma quello la in fondo però le mie anime figlio di cioè buon uomo dove sono le mie le mie anime via via avevo detto e vabbè da tutte le parti mi prendo non ci manca solo che vabbè prendetemi anche dopo la morte allora per me sbucca di la prendete i consigli da me nel punto in cui ci sono meno cristalli quindi dovrebbe sponare o di qua di qua che già se sottovalutare la roba così è visto visto c'è spiegatemi come fare molto sto qua che sembra avere le moroidi perché non mi attacca no tu non fai le predicazioni mistichistiche o la lancia dell'anima si è fermata a mezzo me a mezzo metro dalla mia testa io l'ho evitata per il miracolo del del dio del sole e non so come si chiama perché la lordi la risulta uno non lo so e basta spararmi caga ma dove partono gli attacchi io non lo so mi sono trovato una lancia dell'anima dei cristalli e altri e altri raggi viola in culo nel giro di mezzo secondo allora sto andando malissimo o la concentrazione di no dai ma perché non riesco a concentrarmi ora devo cambiare scudo quello con più magia sicuro con più resistenza alla magia perché parlo così male mi sta rovinando sto gioco no io sono l'evangelista non puoi fermare come mi chiamo secondo matteo saldini no sei un mago non puoi colpirmi con le spalle io sì tu no perché sei un mago ma lui cosa fa lui non è studiato lo fa lo stesso ma puoi sbucare da qualche e la e poi io non devo dire parolace questo è ovviamente un doppione tu 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 sei un doppio sei un doppione sei un doppione però mi stai sulle palle quindi ti uccido lo stesso due perché una alla vita una alla salute allora di solito sti tu sono tutti i doppioni questo è un doppione ovviamente questo qua è un doppione ovviamente però però una lancia dell'anima lo ripeto ecco lo ripeto fino alla morte sono morto ora non ripeto più ma davanti di backstall prima o poi uscideremo vincere e vinceremo ancora basta con sti cristalli li compro che adesso scomi spara meta non spara questo quanto la vende al chilo 35.000 però ho già detto le lance dell'anima morto un colpo di un colpo di quei eroi volanti e muoio il granchio sa già cosa faccio non sarà ucciso da un granchio l'onore almeno mister crab lo diceva sempre mio nonno stai attento alle danze dell'anima tubo signore mi potresti dire dove testi indicare dove dove ho lasciato le mie anima grazie e me l'ha indicato i cristalli e te vedeva cristallo è aspettava no è ma quanto lo so vero questo quanto verrà sempre modo di ammazzarti anche se non lo sai che si tu vuole in fondo essere ambiguo io voglio ucciderli più velocemente possibile quindi se vogliamo fare una resa pugni a pugni qua pure voglia continuare così vivi 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 finito ah ah ti ho trovato è perché ho fatto lo sto lo vedi che sta sparando una lancia dell'anima cosa faccio io gli vado addosso premio giocatore dell'anno e come faccio e devo ripararmi da qualche parte ma non c'è un riparo qua attacchi cardiache mi è venuta cosa hanno fatto il giro cazzo e chi chi dimentica di cambiare lo scudo chi arriva ora mi do pioni paparapa ma sì ma la rotolata che serve adesso che ma chi mi ha colpito basta con sto boss di merda allora quello quel no 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 vabbè sì ok me ne sono andato per un po ho fatto una pausa perché non è possibile morire sempre se sono morto sono morto un petto secondo e il granchio e granchio ed anche mi aspetta tipo quasi quasi evo con il granchio per combatterlo allora spara tre fece del del gianni e giovanni alla volta bastone dell'ostrione prima bastone del trigone o to backstab si sono depresso non riesco a battere un boss c'è stato di peso nel 2 col demone della forza ci ho messo tipo ci ho messo una settimana a battere ma non sto scherzando una settimana sul serio ora comincia la sfida uno quello 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 è saggio o quello è saggio questo è il saggio è questo è questo è questo crepa mostro copia incolla ti ho trovato puttano ma è saggio o saggia perché saggia di cristallo non l'ho mai sentito oh mio dio è morto determinazione la determinazione vince sempre sugli stronzi sia vabbè lo dato dov'è il sole anima del saggio di merda finalmente braccia ripristinata vado a fuoco 30.000 anime over power oh my god ok un catarina va bene ragazzi sono veramente ufo no sto scherzando no e se no mi arriva la gente che mi ammazza in casa comunque come inchino dai voglio bene vi faccio anche l'inchino ci vediamo alla prossima spero di smettere di prendere fuoco poi entro la prossima volta